Rata Bassotta presenta Pietro, detto Brum Brum Pietro ha preso l'auto nuova, guarda come va Pietro ha preso il fuoristrada, così non lo ferma niente Ha preso un SUV, eccolo, che senso di sicurezza Ah no, ha preso la familiare Pietro, allora, com'è la tua auto nuova? Pietro, è ora di crescere, alla famiglia serve un'auto Lo so, ma come faccio con i soldi? La soluzione è sotto i tuoi occhi Più in basso Ma in basso dove? Bassotto Per Pietro e la sua famiglia, la liquidità per l'auto nuova e per tanti altri progetti E per te, cosa può fare Rata Bassotta? Scegli la cessione del quinto numero uno in Italia